Sì, prego, sì prego, entri pure, sì, salve, buongiorno, io sono Martina, piacere, è la prima volta che viene nel nostro negozio, sì, infatti non mi sembra di averla mai vista qui, ok, è entrata per dare un'occhiata oppure per un motivo in particolare, ah, per la nuova vetrina, sono contenta che abbia fatto colpo, ci abbiamo messo veramente un po' a costruirla, sì, in particolare sì, per i rossetti liquidi, certo, guardi, si vede che è un appassionato di make up, ha un trucco molto bello, complimenti, con questi toni caldi, bellissimi, sì, certo, quindi conosce già questo marchio We Make Up? No? Ah, ok, d'accordo, quindi sì, vuole qualche informazione in generale sul brand? Certo, allora, guardi, We Make Up si descrive così, la nostra storia ha inizio 50 anni fa in un piccolo laboratorio di cosmetica dove mettevamo a punto le migliori formule per i marchi più prestigiosi, oggi abbiamo intrapreso una nuova missione, rendere la cosmetica di altissima qualità accessibile a tutti, quindi questo diciamo che è l'intento di We Make Up che vuole realizzare questi prodotti di altissima qualità a dei prezzi apportabili, quindi ha avuto un gran occhio perché ha scelto un gran buon marchio, perfetto, allora, guardi, la collezione diciamo che si compone di questi rossetti liquidi, ne ha già altri? Sì, dico proprio di rossetti liquidi, ti te la apro insomma, certo, sì, quindi come penso, però sono rossetti che si applicano come se fossero un lip gloss, un lucido a labbra, ma si asciugano completamente opachi, mi indico le labbra perché anche quello che indosso oggi è un rossetto liquido proprio di questo prezzi, infatti guardi, le confesso che non sono solita portare occhi molto intensi a livello di make up e anche labbra con un colore così forte, però questo rosso oggi mi ha veramente veramente conquistata e quando questa mattina sono arrivata in negozio non ho potuto non applicarlo, sì, allora la collezione si compone di 35 rossetti liquidi divisi in, diciamo, qualche macro categoria, cioè la categoria dei nude, la categoria dei colori più classici, quindi i classici colori appunto dei rossetti il rosa, i rossi, poi abbiamo una parte di colori metallizzati e una parte diciamo dedicata ai colori più pazzi e assurdi come il giallo, il bianco, il celeste, il lilla, questi colori diciamo che non sono alla portata di tutti oppure indossabili tutti i giorni, però sicuramente per magari dei make up artist che realizzano editoriali o servizi fotografici possono essere molto molto, diciamo, importanti nelle collezioni, ok, noi abbiamo qualche colore, We Make Up è un brand che vedo online, quindi noi abbiamo acquistato qualche colore, sì, mi dica pure, le andrebbe di vedere qualche nude, perfetto, diciamo che mi faccia vedere, scusi, mi avvicino per consigliarle al meglio, diciamo che la sua carnagione, sì, è simile alla mia in realtà, quindi è abbastanza chiara, quindi diciamo che le propongo inizialmente un nude chiaro, allora, guardi, questo qui è quello che le vado a proporre, intanto questo è il pack dei rossetti Ever, proprio questo Ever è il nome di questi rossetti liquidi, vedi, c'è il disegno di una piccola bocca intagliato dove si vede il colore del rossetto liquido, all'interno ci sono 5,5 ml di prodotto, hanno una scadenza di 6 mesi dall'apertura, molto importante, ci tengo a farglielo vedere, non è testato sugli animali, quindi è un prodotto cruelty free, alla fine vedete che è un packaging molto semplice, però particolare allo stesso tempo, come puoi vedere, su ogni ever è riportata una frase in inglese che contiene la parola ever e ogni frase è diversa, ad esempio qui c'è scritto, tell me, does the north start evermore? Questo qui è il colore che le vado a proporre per primo, è il numero 02 e si chiamano Marsili Nude, glielo mostro perché è un colore nude, come potrà vedere, eccolo qui, questo è il packaging invece, diciamo, interno, molto semplice con la scritta ever e la, diciamo, confezione opaca, questo vedi il primo colore, è proprio un nude rosato dove c'è anche un bel po' di color carne all'interno, eccolo qui, le piace? Ora glielo vado anche ad applicare, non si preoccupi, li andiamo a provare, eccolo qui, guardi che bello, allora, si avvicini che glielo vado ad applicare, ok, ok, secondo me le dona proprio tantissimo, ecco qua, com'è? Le piace vero? Immaginavo, sì, questo qui è un colore molto bello, naturale, però allo stesso tempo particolare, sì, intanto, guarda, lì ci sono i dischetti di cotone, le salviette stroccanti, quello che pretenisci, intanto te lo puoi andare a rimuovere, intanto ti parlo appunto del prossimo colore che vorrei proporti, mi hai detto di essere una grande amante dei nude, quindi non posso non proporti il nude più particolare di tutti, è il numero 03 e si chiama Huabo Brownish, come si capisce dal nome? Sì, sì, la salviette la puoi buttare, certo, come si può intendere appunto dal nome? È un colore marrone, proprio marrone, molto, 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 molto freddo, ha una componente di grigio parecchio evidente ed è uno di quei colori un po', diciamo, pazzerelli che si vedono tantissimo nelle collezioni di tutti i brand ultimamente, l'hanno davvero proposto in tantissimi, guarda, te lo faccio vedere anche sull'applicatore, è proprio un colore molto particolare, te lo applico, perfetto, ok, guardati pure, eh sì, come ti ho detto è parecchio strano, sì, non ti fa impazzire, è normale, c'è chi ama e chi odia questi colori perché diciamo che sono non proprio convenzionali, sì, ha una bella componente grigia, quindi diciamo che sì, serve magari un incarnato un po' diverso, magari anche il fatto che tu sia più andata, può un po' sbatterti certo, d'accordo, proviamo a guardare un altro colore, dai, magari ti propongo un nude un po' più scuro, sai che fanno molto questi nude, diciamo con una base marrone oppure rossastra ultimamente, guarda, questo è diciamo il nude più scuro che propone Ever, guarda, sì, diciamo che per delle carnagioni chiare come le nostre, questo qui è tutto, tranne che un nude però, te lo chiamo nude perché proprio We Makeup lo fa rientrare nella categoria dei nude, è il numero 08 e si chiama Azumatargrast, guarda, è un colore proprio un po' ruccine, con una bella base marrone, per me questo qui è ancora un nude nel senso che mi sento ancora di applicarlo, hanno una profumazione fantastica di vaniglia secondo me, ma sanno anche un po' di vecchi rossetti con l'odore inconfondibile che ci ricorda un po' la nonna a tutti, comunque dicevo che è quel colore che io applicherei anche con un trucco occhi un po' più scuro, perché è molto elegante, eccolo qui, guardate, lo applico, sì sì, metti la seta in posizione, ok. Certo, si può anche applicare con un pennellino, però trovo che questo applicatore è un po' più lungo, sia molto preciso, quindi li stendo senza l'utilizzo di una matita, come questo, ti piace? immaginavo, vedi? È molto bello, è scuro, è elegante, questo lo mettiamo in cassa, perfetto, ok. Come? Vorresti vedere un bel rosso? Questo? Ecco, questo qua secondo me è uno veramente dei pezzi forti, guarda, nella collezione sono presenti due rossi, uno si chiama Etna Red ed è un rosso abbastanza classico con una base diciamo un po' più calda e che contiene qualche micro perlescenza, mentre questo, guarda, l'ho già qui fuori perché l'ho applicato prima, è il numero 27 e si chiama Malabar Oxblood, quindi proprio sangue, è un rosso sangue, come puoi vedere, molto 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 bello, scurtenso, molto dark, forte, però rimane anche molto molto elegante, è un colore molto femminile, molto sexy. Mi sono appunto, come hai potuto notare, nella difficoltà appunto che hai nel rimuovere i rossetti, sono completamente no transfer, si asciugano veramente super opachi e hanno questo effetto proprio vellutato e sedoso, non posso ne andartelo applicare. Olè, guarda, sembra proprio sangue, vieni qua. Che meraviglia, questo secondo me ti dona più di tutti quelli che abbiamo applicato prima, guarda. E' perfetto, non ci posso credere, veramente ti sta da Dio, guardati allo specchio, fammi il favore, sei meravigliosa, com'è? Questo assolutamente lo compriamo, eh, vedi? Allora cara, per il momento mi hai confermato questi tre ever. Sì, vuoi vederne un altro? Magari un colore un po' più strano. Ti faccio vedere un colore un po' più scuro. Guarda, ti propongo questo qui, il numero 28, che si chiama Amiata Aubergine. Come capirai, è un colore melanzana, quindi un misto, diciamo, tra un rosso, tra un viola. Poi all'interno della collezione degli ever c'è anche un bel colore viola molto scuro, che si chiama Peter Blum. Oppure c'è un colore caffè, cioccolato, che si chiama Wolf Chocolate. Ma questo qui, secondo me, rimane tra gli scuri un po' il più portabile, quello che può piacere a più persone. Vedi, è proprio un colore melanzana, molto, molto scuro. Applicato poi è ancora più scuro. Guarda, andiamo a applicarlo. Dimmi tu se può piacerti. Si mette che è un po' esatto, così. Posso disegnare ancora meglio il contorno. Ok, sì, è veramente molto scuro, deve piacere. Non ti fa impazzire. Ok, perfetto. Guarda, te lo faccio. Cosa? Ah, però lo compri lo stesso. Ah, lo vuoi prendere per un regalo? La tua amica? Si importa molto questi colori, i più scuri. Allora, gli piacerà sicuramente. Certo. Guarda, la frase poi è nel pack di questo rossetto liquido in particolare. Fa troppo ridere. And they both lived happily ever after. Maybe. E vissero per sempre felici e contenti. Forse. Quindi, dai. È un regalo anche simpatico. Tesoro, guarda, allora ti metto tutto qui alla cassa. Vado a servire la cliente che è appena entrata. Tu fai tutto con la mia collega, d'accordo? Sicuramente ti farà anche uno sconto, perché ne hai presi parecchie. Guarda, ti invito a tornare da noi per magari scoprire altre nuove colorazioni di questi rossetti ever. Certo. Sono fantastici, veramente. Perfetto, guarda. Io ti saluto, ti ringrazio per essere venuta nel nostro negozio. Ci vediamo presto. Un bacio. Ciao.